E sono tre. Dopo quello della notte tra il 15 e il 16 settembre 2013 e quello dello scorso giugno, un nuovo attentato ha colpito il paninaro dell'obelisco, rista da Aldo ed Edoardo, all'angolo con via San Nicola che conduce al cimitero, gestito da alcuni fratelli albanesi. Nella scorsa notte malviventi ci hanno riprovato di nuovo, ma la loro intenzione è stata frenata dall'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere il fuoco prima che le fiamme causassero problemi molto più gravi, con l'esplosione delle bombole di gas all'interno del camioncino. Le indagini per accettare la natura dolosa dell'episodio ed eventuale movente sono affidate ai carabinieri della compagnia di Lecce che hanno ascoltato i titolari ancora una volta stupiti, amareggiati ed arrabbiati per il gesto compiuto ai loro danni.